Carlo Nesti, non solo un grande giornalista, inviato speciale e scrittore, ma anche grande uomo dalle forti molteplici passioni, che è riuscito a realizzare splendidamente tutto ciò che sognava da bambino, tra le cose che lo hanno attratto da sempre, la penna, il microfono e la palla. E lui, il mitico Carlo Nesti, acuto osservatore, spinto da una profonda curiosità, è riuscito a unire le tre cose e a costruirsi non solo un lavoro, ma anche un percorso di vita, un modo per vivere meglio attraverso Dio, la sua personale esperienza di calcio giocato, per divertirsi tra amici e come la vita, un insieme di partite di calcio in cui la singola partita rappresenta un problema da risolvere, il gol segnato è un risultato ottenuto, il gol sbagliato è una delusione, Gesù è l'allenatore. Con le sue parole ci dà delle preziosi indicazioni per rivoluzionare la nostra esistenza, renderci più sereni e dare un senso alla nostra vita. E io do il benvenuto a Carlo, Carlo, grazie per essere qui con noi oggi. Ti stiamo conoscendo sotto una veste differente, noi abbiamo sempre apprezzato le tue telecronache e quindi il tuo ruolo da giornalista sportivo. Adesso ci parli di un libro che parla di fede. Come hai conosciuto la fede, come ti sei avvicinato a Dio e soprattutto che ruolo ha nella tua vita? La tua vita è cambiata? Beh, sicuramente sì. Intanto io sono sempre stato credente, però diciamo che la cosa si è intensificata molto negli ultimi due anni e mezzo. Fate conto di andare da un oculista, da un ottico che vi dice, ponendo il mio caso, Carlo, guarda che tu per tutti questi anni hai usato degli occhiali sbagliati. Avevi le lenti sbagliate con le quali vedevi male, deformata la realtà. Adesso ti do un paio di occhiali giusti per interpretare le cose in una maniera differente. E questo è quello che è avvenuto. Nel senso che prima la mia visione era esclusivamente una visione, diciamo, orizzontale della vita. Chiedevo, avevo me stesso al centro di tutto e chiedevo consigli soltanto a me stesso, al mio io. Adesso c'è Dio al centro della mia vita ed è molto bello chiedere consigli a Lui, cioè sapere da Lui se quello che sto facendo in quel momento è giusto o sbagliato. Ecco Carlo, usando la bella metafora che ci hai fornito tu, si va dall'oculista però quando si hanno problemi di vista, quando uno si accorge di vederci meno bene di prima. A te che cosa è successo? Perché hai sentito l'esigenza di andare da quello che tu, nella tua metafora, chiami l'oculista? Beh, fondamentalmente perché avevo una reazione troppo negativa agli eventi negativi. E questo per una questione molto semplice, perché in me c'è troppa sensibilità e anche troppo orgoglio. E allora quando queste cose si mixano insieme, la temperatura sale e divento un po' troppo incandescente. Quindi è stato un momento forse di eccessiva negatività e anche di aggressività che ti ha portato a ripensare. Sì, esatto. Io ringrazio intanto il nostro ospite da Roma, abbiamo infatti con noi Chiara Mirante, fondatrice della comunità Nuovi Orizzonti. Grazie per essere con noi, Chiara. Io, così, pensando a una figura come quella di Carlo, che scrive un libro di questo tipo, ho pensato che forse oggi bisogna avere anche coraggio per raccontare agli altri la propria esperienza di fede. Tu cosa ne pensi? Sicuramente ci vuole coraggio, ma c'è più che mai bisogno oggi di testimoni che siano credibili, perché l'uomo moderno è caratterizzato proprio da questo malessere dell'anima, c'è una profonda solitudine, un profondo vuoto esistenziale. Tante necessità qui non trova risposta. Trovare testimoni credibili che possano testimoniare che Gesù è il nostro psicologo, in Gesù possiamo trovare le risposte perché il nostro spirito ha bisogno di pace, ha bisogno di comunione, ha bisogno di amore, ha bisogno di Dio. E trovare dei testimoni che possano testimoniarlo con la loro vita e farci conoscere le grandi risposte che il Signore del creato è venuto a portarci, penso che sia più che mai esigente un'esigenza di oggi ed è molto importante. E secondo te Carlo è un testimone credibile? Beh, mi sembra che sia molto credibile Carlo perché si è guadagnato la stima di tanti con la sua professionalità, con la sua testimonianza. Grazie. Perché questo titolo, il mio psicologo, si chiama Gesù? È molto bello, io ho letto alcune pagine, questo linguaggio schietto, proprio diretto anche ai giovani. Ma il titolo nasce dal fatto che, come dicevo prima, la chiave di tutto è far entrare Gesù nella nostra coscienza. Sentivo prima parlare di quella metafora, che a me è molto chiara. Io immagino sempre, forse per deformazione professionale, la vita come un grande campionato, un lungo campionato, in cui ogni partita è un problema da risolvere. Tante partite quanti sono i problemi che abbiamo da risolvere ogni giorno. Noi siamo dei giocatori e chi meglio di chi ci ha creati è il nostro coach, il nostro misteri, il nostro allenatore, è Gesù. L'importante è che siamo in uno stadio sempre molto rumoroso, c'è tanta gente, siamo molto disturbati, lui è in panchina, noi siamo al centro del campo e a volte non sentiamo la sua voce. Dobbiamo allenarci a sentirla. A proposito di persone del mondo dello sport, che possono essere anche testimoni di questo messaggio importante, di questo messaggio di fede, noi abbiamo realizzato questa intervista. Tu in che rapporti sei con Carlo? Io ho avuto modo di conoscerlo l'anno scorso. Sai, quando condividi le stesse cose, la stessa fede in Dio, in Cristo, ti sembra di aver conosciuto una persona da sempre. Alla fine, come Gesù ha detto, quando era piccolo, che Maria e Giuseppe si presentarono da lui nel Sinedrio, lui disse, io non ho chi è mia madre e chi è mio padre. Tutti coloro che mi amano, che mi seguono, sono mia madre e mio padre. Quindi così è uguale anche per noi. Noi abbiamo fratelli e sorelle sparsi in tutto il mondo e coloro che credono in Gesù sono miei fratelli e miei sorelle. Ecco, come sei diventato quindi il credente di oggi? Aprendo il mio cuore, perché alla fine tutti gli uomini hanno un richiamo spirituale, perché comunque siamo stati creati dallo Spirito. Questo richiamo l'ho sentito fortissimo, è come una chiamata veramente, perché il Signore mi continuava a bussare fino a quando io ho aperto definitivamente il mio cuore. Quindi io penso che anche nel mio piccolo o persone come me, nel loro piccolo, possono essere una luce in mezzo alle tenebre. Quindi Dio permette sempre agli uomini di potersi rivedere. E magari io spero che questa piccola luce che posso essere io possa veramente coinvolgere altre persone che sono nel buio oggi. Ecco, è molto bella l'idea di Nicola di essere una piccola luce. Però non lo so, forse in un ambiente come questo una piccola luce come può essere lui, una piccola luce come può essere Cacà sono degli esempi importanti? Sicuramente sì, perché questi sono gli esempi per i giovani. Indubbiamente si tratta di persone che si sa sono molto ricche, stanno bene economicamente. Però è importante che proprio loro dicano che non è fondamentale, soprattutto all'Occidente, naturalmente, nell'Occidente del mondo e a nord del mondo, non è fondamentale la ricchezza, la ricchezza è importante. A proposito di questo, caro, il Papa, il Pontefice ha appena detto questa frase molto bella che secondo me ci sta. Cioè lui dice i soldi non sono importanti, quello che è importante è la parola di Dio ed è la fede nella parola di Dio. Che cosa pensi? È molto semplice. Se il cristiano, se si è cristiani, se si ha fede, quindi si crede in qualche cosa dopo la morte, che ovviamente è la felicità eterna, e di conseguenza comprendiamo che tutto quello che è avere su questa terra ce l'abbiamo esclusivamente in affitto. Cioè purtroppo è destinato a non durare, perdiamo tutto. E quindi diventa fondamentale invece ciò che rimane, che è l'essere. E l'essere è il nostro cuore, la nostra anima, quindi naturalmente alimentare il nostro spirito diventa fondamentale proprio in funzione di un grandissimo premio finale che è quello al quale aspirano tutti, anche gli atei, anche gli agnostici, e cioè la felicità eterna. Sicuramente troverai d'accordo anche Carlo che prima mi ha detto durante la pubblicità che se potessi riassumere tutto quello che ha scritto nel suo libro in una sola frase, in un solo comandamento, lo vuoi ricordare tu? Beh, guarda, vabbè, oltre a ama il Signore, ama il prossimo tuo come te stesso. è Gesù stesso che ci prega di avere autostima come te stesso e volere bene soprattutto noi stessi perché se non abbiamo questo sentimento per noi non riusciamo ad averlo per gli altri. Grazie Carlo.